buongiorno allora siccome la live comunque la facciamo alla tre e mezza però non so quanto ne poto stare online perché ho una persona che ha bisogno di assistenza e mi chiameranno per sapere che ora devo andare e preferirei tenere la live in modo più alle grotto un po più scanzonato perché anche per tirare un po sul murale quello sapete cosa succedendo da noi non mi sembra il caso di parlarne anche perché parlarne come stigare il lancio dei coltelli qui ormai sulla questione non c'è neanche si tenta di confrontarsi non solo da noi ma anche qui uno da una parte uno dall'altra non c'è proprio non si fa neanche lo sforzo di provare a sentire cosa dice l'altro no però intanto approfitto di rispondere alle vostre domande qua quelle più veloci allora la prima riguarda il re i pagamenti partono dovrebbero partire domani teoricamente probabile che partano nel dio martedì perché domani le macche sono chiuse e non so se le poste hanno già ricevuto i mandati per i pagamenti direi per cui può darsi che non ci siano ma ricordatevi una cosa il re non ha la stessa procedura di pagamento delle radici le radici funziona a flussi una volta che i pacchetti di pagamento partono partono a tutti gli altri scaglionati i rem ea persona cioè voi potreste aver fatto la domanda insieme un'altra persona lo stesso momento lo stesso giorno nella stessa città lui magari la prende oggi e voi la prendete domani non è cioè per questo in questo caso è necessario avere uno speed o un p perché così potete verificare da voi come sono messe le pratiche rimanendo il fatto che anche in questo caso non tante le dichiarazioni scritte dell'inps risulta che alcune che ci siano pratiche fatte ad aprile che sono ancora in acquisita quindi però l'inps come sempre la fa grossa poi intanto fa sempre in tempo dopo a dire ma noi volevamo dire un'altra cosa va bene sempre per l'inps mi hanno segnalato due problemi uno riguarda l'accesso con lo speed allora lì non è un problema solo dell'inps a volte il quando ci sono molti accessi e probabilmente ieri c'è stato anche un eccessivo numero di ingressi per verificare i rem gli speed tendono ad imballarsi nonostante tutto il chiacchiericcio della digitalizzazione in italia siamo sempre qua siamo sempre al tamburo sì sì digitalizziamo però ecco siamo capiti devi fare le infrastrutture non è che basta dire digitalizziamo e questi si creano da niente vabbè quindi è probabile che sia quello eccesso di connessioni tenete conto che il sistema di certificazione elettronica viene usato su tutti i siti governativi quindi la gestione è quella ragazzi a prescindere da chi sia il vostro fornitore del servizio la situazione è quella tu puoi avere una ferrari ma se lo si per andare a fare la spesa cambia poco ecco l'altro problema è l'accesso all' rdc da mobile ora io non so chi è il genio che ha fatto resta lì in grafico perché lì è un problema secondo me dire solo di resta lì in grafico semplicemente avete presente il quadratone rettangolone pardon verde in cui c'erano specificate le istruzioni perché aveva terminato è stato resta rifatto bel colore verde bottiglia chiaro il problema che l'ha fatto grande la barra in alto blu dove c'erano le tre linee da cliccare non si vede praticamente più quindi anche è un po difficile cliccati su passeno se non c'è proprio fisicamente la barra io spero che la cosa venga risolta in brevissimo tempo consiglio mio personale quando andate su storinps segnalate il problema a inps risponde scrivete avete fatto un casino non si riesce più entrare nel sito perché avete fatto un casino segnalate glielo e segnalatelo in massa perché così magari si svegliano e la smettono di far fare queste operazioni dire stai lì in grafico che è la cosa più inutile da fare su queste cose perché sai quanto me ne può fregare della bella icona colorata se poi non funziona a qualcuno che sia diciamo dotato almeno delle capacità cognitive di un babbino ubriaco perché ti ha fatto una roba così non ha guardato il pastore che ha fatto secondo me è uno che dal punto di vista della programmazione ferma il basic poi mente in casa c'è un univac comunque la soluzione c'è io vi do la soluzione per la versione android è perché io e la apple siamo nemici giurati comunque per i telefoni per i pc magari no ma per i telefoni assolutamente cliccate in alto dove ci sono i tre puntini quello che apre la pagina della vostra cronologia non solo pagina in se sulla pagina vostro telefono in alto c'è mica una barra dove compare il vostro l'indirizzo ip e l'indirizzo del sito web su cui siete andati ecco di fianco ci sono i tre puntini cliccate su quelli compare la vostra cronologia andate dove c'è scritto sito desktop cliccate lì sopra la pagina viene riformattata viene modificata scusatemi non sono un tecnico per cui magari la parola sbagliata la pagina viene caricata nella versione pc nella versione pc basta scrivere reddito di cittadinanza nella barra di ricerca compare un menu a tendina cliccate dove c'è scritto versione desktop per utenti e non quelli per il caffi patronati no c'è proprio scritto cliccate su quella ea rimanda sulla pagina del reddito che avrà visibilissime le tre barrettine in alto su cui potete cliccare compagno i vostri dati che ricordatevi questo qui non sono problemi che riguardano il vostro reddito la vostra carta così questi sono problemi della gestione del sito inps voi centrate zero sono loro che fanno i casini ma questi sono casini che riguardano la possibilità di interfacciarsi al sito non i dati del sito le informazioni del sito capite adesso rispondo anche il bravo fabrizio che mi ha chiesto una un parere glielo scritto sotto molto velocemente hanno segato i vertici di ampal secondo me ci hanno messo pure troppo tempo per come hanno lavorato per come è stata gestita ampone in questo periodo che doveva essere interfacciarsi con i navigator come strumento per la ricerca del lavoro un cieco a guida un sordo vabbè a stesso livello ma diciamo che loro si sono allineati proprio navigator quelli non combinano una fava e questi non combinano una fava il sito dell'ampal ed esorante ci sono più tartari nel deserto dei tartari che posti di lavoro nel sito ampal fate un po voi è imbarazzante ed è stato gestito male il problema è che va benissimo rimuovere questa gente che si è dimostrata palesemente incapace però adesso mi devi mettere gente brava gente competente gente capace non degli altri scappati di casa che passano di lì perché veramente a me sapete cosa mi fa venire in mente sta gente c'era una battuta in fallout new vegas questi cercavano un tecnico un esperto in roboti in fisica beccano un tizio lei ha una laurea in fisica io una o una teoria di fisica laureata una roba così perché poi in italiano la tradotta meglio comunque cercavano un ingegnere e questo qui aveva un'idea di cosa fosse un ingegnere ecco diciamola così ecco mi dà l'idea della stessa cosa che gli assumono così ma lei capisce più o meno che cos'è questa cosa beh sì c'è una manopola devo girarla ecco infatti quel tizio quel genialoide che c'è in fallout new vegas era fissato che la console su cui stava lavorando fosse la più importante perché era la più grossa ed era la console che comandava le prese d'aria quella più piccola che comandava il sistema invece non se la filava perché diceva che era più ecco siamo di fronte a questa gente qui che ha gestito il sito Ampal come è stato gestito adesso quindi io spero che gli di una serie da correzione per chi invece deve prendere l'RDC ricordatevi i flussi potrebbero partire già oggi alle due probabile ecco perché le lavorazioni le hanno già fatte lo ricordo ci sono tre tipologie che prendono i soldi in questa nella metà del mese i rinnovati la ricarica dei rinnovati successiva sarà il 27 o 26 di giugno perché il primo della prima ricarica la seconda passano 45 giorni non 30 chi ha fatto la prima volta la domanda stesso discorso la ricarica successiva ci sarà tra 45 giorni e non 30 chi deve prendere gli arretrati chi deve prendere gli arretrati prenderà gli arretrati che deve prendere cioè mensilità che non gli hanno ancora erogato per problemi vari e il 27 di maggio prenderà la sua mensilità regolare questo è l'unico caso in cui se ne prendono due ma perché c'è un arretrato non per cose strane che qualcuno veniva a raccontare doppia mensilità e cavolate varie no questo è l'unico caso perché c'è un arretrato che va liquidato tutto e ne badisco non si liquidano mai insieme le due rate una viene sempre liquidata a metà mese e una alla fine del mese non si fa una doppia ricarica il 27 mai capito per questo che ci sono sono separate io ci sentiamo fra un qualche ora detto cercherò di un po di cavolate se facciamo due risate anche se saremo soliti quattro legati al bar poi ve l'ho detto quando vedo che mi arriva la comunicazione mi lascerò per una signora che ha bisogno effettivamente una mano tanto statemi bene tutti ok ciao ragazzi